Desideri un finanziamento con Comoderate? Con FIGEMPA puoi ottenere un tasso agevolato pur avendone altri in corso o ritardi nei pagamenti. Offriamo importanti agevolazioni a dipendenti e pensionati. Basta presentare la busta paga o il cedolino della pensione. Scopri i nostri prodotti. Cessione del Quinto, delegazione di pagamento, prestiti personali, anticipo TFS o TFR e Muti. Ed insieme troveremo la soluzione giusta per te. Vieni a trovarci in filiale! Grazie a tutti!